E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon anno e buon calcio da Giampiero Foglia Manzillo. L'anno nuovo dei nerazzurri comincia al Franchi, in casa di una Fiorentina, in serie utile da sette turni. Fischia Valeri, comincia Fiorentina-Inter. La finta, la rincorsa, la battuta col Mancino, il colpo di testa di Astori, pallone che termina sul fondo dopo il tocco di Simeone. Prima opportunità della partita, firmata dal Ciolito. Intercettato il pallone, riparte la Viola, posizione buona per Giovanni Simeoni, in seguito da Ranocchia. La frenata, si libera così del 13 nerazzurro, palla dentro, il velo di Terò, l'appoggio per Chiesa, ci prova col sinistro. Palla fuori. Simeone con il petto, pallone lungo, a cercare la corsa di Chiesa, che riesce a recuperarla. Cross di prima, raso terra, Ranocchia non trova la posizione, Terò di prima, la spara fuori. E allarga ancora per Perisic, si rinnova il duello con Lorini. Perisic prova il cross, basso, i pugni di Sportiello a mettere in angolo. Doveva essere un cross, diventa un tiro insidioso, rimedia però il portiere della Viola. Si riparte al Franchi. Trova la palla ancora, il 24 della Fiorentina. Terò adesso, ai 20 metri, la difende, si sbraccia Biraghi a sinistra. Veretù per Chiesa, può prendere la mira, col sinistro, palla larga. Palla dentro, il colpo di testa di Icardi. Vincente il suo tapin dopo la prima rispitta di Sportiello. 10 minuti nella ripresa, l'Inter è davanti, grazie al gol numero 18 in campionato di Maurito Icardi. Da aggiornare il suo score contro la Viola. 10 reti nelle ultime 12 partite, 8 nelle ultime 4. E dopo la doppietta all'andata, arriva anche il gol nel match di ritorno. Biraghi col sinistro, vola Andanovic e la mette sopra la traversa. Salva il vantaggio nero-azzurro. Samir Andanovic con questo grande intervento sulla bella punizione di Cristiano Biraghi. Bertù, Benassi, apre per Chiesa, raddoppiata la marcatura, cerca il fondo, mette in mezzo. Il cross di Chiesa con deviazione da parte di Skriniar. Il taglio di Dalbert, Perisic a cercare Borcavalero, colpo di testa sopra la traversa. Grande idea di Ivan Perisic che vede l'arrivo di Borcavalero. Chiesa. Attaccato da Dalbert, centrale per Veretù, con il destro, morbido il pallone dentro. Babacarra, l'acrobazia, le dita di Andanovic a mettere sopra la traversa. Riparte l'Inter, lo fa con Candreva, il colpo di tacco di Vessino a liberare Borcavalero. Di prima, pescare Icardi, in posizione buona. Avanza Icardi, dentro per Candreva, Sportiello prova a chiudere, esterno della rete. Il dribbling sul portiere, pallone sul fondo però. Babacar scavalcato, la ritrova però dall'altro lato Chiesa. Piraghi, la conclusione, dentro Simeone! Il pareggio del Ciolito al minuto 91. Fanno sette in campionato per lui. La Fiorentina ritrova la parità. Finisce al Franchi. L'Inter per la quinta partita di fila non riesce a vincere.